Sì ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mono Sport 07 Siamo qui per recensire la Formula 1 ragazzi Sono appena tornato da Mario, ho visto la gara, ho visto il replay, ho visto tutto Allora, diciamoci che è stata una gara sicuramente molto divertente Innanzitutto è una Formula 1 bella, ma bella per davvero quest'anno Molto molto imprevedibile devo dire Ed è anche bella per tutte le lotte Per la lotta Mercedes-Red Bull Per la lotta Verstappen-Perez Per la lotta Verstappen-Perez Per la lotta Verstappen-Hamilton Red Bull-Mercedes Per la lotta McLaren-Ferrari Per la lotta a centro gruppo ragazzi Ci sono veramente tante tante lotte ragazzi in ogni zona Quest'anno stanno uscendo veramente dei GP imprevedibili Anche se in realtà sono tre volte consecutive Dove il Polman fa anche la vittoria Perché ragazzi tra Francia, Serie A, Austria e Verstappen Ha preso tre vittorie molto molto importanti Andando veramente a largo con la testa del mondiale Sono 32 punti di vantaggio su Hamilton Adesso il vantaggio comincia a farsi veramente veramente importante ragazzi Perché Hamilton non ha affatto un brutto mondiale Tre vittorie, sei body, nove gare Non sono un brutto bottino Certo in Azerbaigiana Monaco poteva fare meglio Oggi comunque non aveva tanto il passo Però ci sono anche delle gare dove comunque sarebbe voluto terminare più indietro Dove comunque l'avversario sulla carta era più forte E invece è riuscito a tirare fuori il colline dal cilindro Ottenendo dei punti veramente importanti Così come in Bahrain, in Spagna Comunque ha fatto una gara veramente molto molto buona Portimao comunque è riuscito a vincere Quindi in qualche modo Lewis Hamilton ha fatto comunque un bel mondiale Poi da monaco in poi si è un po' perso per strada Però in Francia e Austria poteva essere doppietta Red Bull In Francia e Austria quello di settimana scorsa Ma questo poteva essere doppietta Red Bull E invece è riuscito a stare davanti a Perez E anche al compagno di squadra Che comunque si è fatto sentire in questi gran premi Quindi insomma il coniglio fuori dal cilindro Hamilton è riuscito a darlo in molti gran premi Poi vabbè ci sta che un gran premio come questo qui Si è anche fatto superare da Norris Ma comunque ora parliamo un po' di tutto Verstappen sembra veramente il pilota più forte in questo momento Quello che comunque ha più ritmo Ma si sapeva che Verstappen rispetto a Hamilton È sempre stato uno con più ritmo Uno più veloce Hamilton è più bravo nei riflessi È più bravo nella capacità di pensare cosa fare Nella strategia eccetera eccetera E nella gestione insomma della gara Ecco Hamilton è veramente molto molto bravo in questo Verstappen un po' più meno di lui Però Verstappen è uno che ha ritmo Che una volta che è primo non lo togli più di lì Se non ha una ripartenza Oppure comunque alla via del gran premio Ecco perché le partenze per Verstappen ogni tanto non le azzecca Spesso quando parte dalla pool L'abbiamo visto magari in Francia Quindi insomma questo è quanto Per quanto riguarda Bottas Ci sono un po' di cose da dire da Bottas Io forse la Mercedes mette dei Russell Non metto in dubbio che Bottas Ha un po' diciamo Dopo 5 anni ha fatto comunque il suo Il suo lavoro alla Mercedes è sufficiente Nulla di più nulla di meno Quindi comunque un buon lavoro Dopo 5 anni magari è ora di cambiare Per Valtteri Bottas Più che per Valtteri Bottas per la Mercedes Però c'è da dire che sta comunque facendo un bel mondiale Se teniamo conto le ultime gare Ecco se teniamo conto il mondiale in generale no Però ragazzi Escluso il gran premio dell'Azerbaijana A Monaco Bottas aveva comunque più ritmo di Hamilton Si è voluto terminare sul podio Forse insidieri anche Verstappen Non lo so Però comunque stava facendo una gara E sicuramente avrebbe terminato a podio In Azerbaijana si è un po' perso Gara più schifosa della sua vita In Francia comunque Aveva detto che la selezione vincente Era due soste Ho superato Perez con la strategia Ma lui ne aveva più di Perez Con il gran premio Settimana scorsa comunque È riuscito a tenersi dietro Perez Nonostante comunque Ripeto Perez aveva un'auto Superiore a lui Se l'è tenuto dietro Oggi non solo Ha tenuto dietro Perez Che comunque ha fatto una brutta gara Ma ha anche superato il compione di squadra Terminando la gara a seconda A 17 secondi di stacco Da Max Verstappen Quindi una buona notizia per la Mercedes In ottica costruttori L'aver recuperato Valtteri Bottas Che comunque durante l'arco del mondiale È stato anche abbastanza sfortunato Il contatto con Russell a Imola Il ritiro a Monaco Insomma ragazzi Bottas poteva avere una ventina di punti in più Vabbè una ventina A Imola comunque Penso che In sesto posto Più o meno Lo portava a casa Perché poi è uscito L'asciutto Ecco A Monaco comunque 18 punti Lo portava a casa Quindi sono 18 e 8 Sono vabbè Non c'è neanche un altro punto Sono 26 punti Che comunque Fanno la differenza Ragazzi E poi magari Quei 3 punti in più In Francia Insomma È un'altalena di punti Io la chiamo così Comunque Va tenuto conto Quindi comunque Oggi Credo che sia forse anche La miglior gara stagionale Di Bottas Oltre che il suo miglior risultato Stagionale È il quinto podio In nove gare Perché ragazzi Comunque Bottas Non è che ha fatto un mondiale Così schifoso Sono 5 podi in nove gare Certo Quindi una Mercedes Che comunque Inferora la Red Bull Ma 5 podi in nove gare Sono comunque Per me A mio parere Un Diciamo un buon bottino Ecco Nulla di più Però comunque Un buon bottino Per quanto riguarda Norris Io spesso dico Che in questa stagione Stava facendo sicuramente Una stagione straordinaria Ma ha più punti Di quel che dovrebbe meritare È spesso fortunato Però oggi Meritava forse anche Il secondo posto Perché Ha terminato la gara A 3 secondi da Bottas E ha anche superato Hamilton Quindi veramente Ha fatto veramente Un'impresa straordinaria Oggi Lando Norris Dimostrando tutto il suo valore E Credo che Più nessuno Deve sarei dire Che è sopravvalutato È un grandissimo pilota Che dopo 3 anni Ha trovato La quadra definitiva In McLaren E sta veramente volando Con i risultati Anche perché Dopo che stai 3 anni In una scuderia Sei sicuramente bravo tu Ma è anche perché Ti sei abituato È chiaro che Dopo che stai 3 anni In una scuderia Ti abitui meglio Specie se è una scuderia Da centro classifica Invece che è una scuderia Di alto rango O come Mercedes Sono i debut di questo momento Diciamo pure così Quindi Lando Norris Non è certo Sopravvalutato Un grandissimo pilota Ha forse più punti Di quelli che avrebbe meritato Perché C'è da dire Che è stato spesso Favorito dagli avvenimenti Però oggi Non ho da dire su di lui Probabilmente Credo sia anche Il driver of day A mio parere Ha fatto veramente Una gara Straordinaria E oggi ha meritato Il terzo posto Anche se c'è da dire Che i GP sono strani La settimana scorsa Norris Aveva solamente 3 secondi di vantaggio Su Leclerc Su Sainz Scusate E se Sainz Non perdeva tempo Su Hamilton Probabilmente Norris Lo andava a prendere Oggi invece Tra Norris e Sainz Ci sono stati Una trentina Di secondi di differenza Ora non mi ricordo quanti Ma ci sono stati Comunque Tanti secondi di differenza Ora vi dico Ma forse anche Più di 30 Ora vi dico subito Perché comunque Ragazzi È incredibile Da andare a 3 secondi A di più È veramente tanto Allora Sainz A 50 Sono veramente 37 secondi Di differenza Ragazzi Che sono comunque Tanti Non ci scordiamo Che Norris Ha anche ricevuto Una penalità di 5 secondi Quindi insomma Ragazzi Sono 37 secondi Che sono veramente Veramente tanti Quindi oggi Nulla da dire Un super Lando Norris Che ha dato Forse Mi sbaglio Anche No spero Ricciardo è dietro Sainz Quindi vabbè 60 secondi Ha dato 40 secondi Al compagno di squadra Con la media Di circa 7 decimi al giro È veramente Un qualcosa Di incredibile Quello che ha fatto Questo ragazzo Questo oggi Per quanto riguarda Perez Sì oggi è stato Uno stronzo Buttato tutte le volte Fuori le Clerc Però diciamo che Chi è uomo di sport Ha capito Perché insomma Perez è stato buttato fuori Da Norris Quindi si è messo a dire Ora faccia la stessa cosa Però Norris è stato penalizzato Non vedo il perché Tu invece non sei penalizzato Quindi insomma Norris Ha buttato fuori Perez Ovviamente Involontariamente Ha ricevuto la sua penalità Però Perez Ne ha avuti due È stata una gestione di gara Completamente scorretta Secondo me A mio parere Da parte di Norris Ed è anche Secondo me Un pilota Abbastanza discontinuo Perché insomma La settimana scorsa Ha messo pressione a Bottas Per il podio E per pochissimo Delle Ferrari E delle McLaren Quindi insomma Della McLaren di Ricciardo Comunque dal centrogruppo Cosa che si è verificata Anche in Spagna E anche In altri gran premi Come magari Portimao Quindi insomma Perez lo vedo un po' spaisato Perché è un po' discontinuo Poi certamente Sta facendo un ottimo mondiale Molto meglio di Albon Molto meno di Gasly Ma questo è risaputo Perez ha alle spalle Undici anni di Formula 1 Non è certo il Gasly O l'Albon di turno Questo Potevamo forse imparare A gestire meglio la rabbia C'è però da dire Che gli avvenimenti Sono sempre problemi di McLaren Perché oggi A tiro di Perez È capitato l'Eclerc Non è capitato a Ricciardo Quindi l'Eclerc Senza che veniva Sporterato due volte Finivano quinti a sesta Le Ferrari Non quinta ottave Ed erano 4 punti più Per la Ferrari 2 punti meno Per la McLaren Per farvi capire Non accade mai qualcosa Contro la McLaren Accade sempre qualcosa Contro la Ferrari E a Imola La safety car E il fatto che l'Eclerc Avesse rotto la radio E a Monaco L'Eclerc non parte E in Azerbaigiana Gli hanno sbagliato La strategia E Sainz Ogni tanto Va a sbattere Parte dal fondo Cioè insomma Accadono sempre Avvenimenti Pro McLaren E mai contro McLaren E accadono sempre Avvenimenti contro Ferrari E mai pro Ferrari Cioè quindi Questo è quanto ragazzi Secondo me la Ferrari Dove avere più punti Di quelli che aveva finora Perché comunque Dopo l'abbiamo portata a casa E la McLaren Leggermente di meno Per quanto riguarda Vettel E il Raik E un incidente di gara Azionuota Secondo me deve Secondo me fare Qualcosina in più Perché Mi sta un po' deludendo Russell Ha fatto veramente Una super gara Sfortunato come non mai Però c'è da dire Che all'Alunso Sono 4 gare consecutive Che va a punti Quindi Super Fernando Alunso E per quanto riguarda Le classifiche Abbiamo comunque ancora Un'ampia Diciamo che abbiamo 19 punti di distacco Dalla McLaren Anche se sono 19 punti Quindi non sono tanti E sono secondo me Ampiamente recuperabili Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Vi darci un viaggio Se il contrario Unis like Comenta se siete d'accordo O desaccordo con me Se non l'hai ancora fatto Iscrivete al canale In descrizione Il link per seguirmi Su Instagram Damolissimo E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazza